Il maggior impegno finanziario del Fondo Monetario Internazionale nella sua storia sarà per l'Argentina. A dirlo, la direttrice dell'OFMI, Christine Lagarde, chiama così l'impegno dell'Organizzazione Internazionale, che presterà 57 miliardi di dollari a Buenos Aires. Come diversi governi passati, dunque, anche il presidente Macri ricorre all'aiuto internazionale. Politiche di sinistra sotto i Kirchner o definite neoliberali sotto Macri, dunque, hanno avuto lo stesso risultato. Ma perché? Il vero problema dell'Argentina è l'immensa spesa pubblica. Negli ultimi 57 anni lo Stato ha speso più di quanto incassasse 53 volte e il peso argentino ha perso negli ultimi mesi il 25% del proprio valore. Buenos Aires siede sull'orlo del vulcano, ha un enorme deficit pubblico, un deficit esterno e un debito di 250 miliardi di dollari verso l'estero per contratti stipulati quando il peso valeva molto di più. Il protezionismo imposto per anni e le difficoltà di fare imprese in Argentina hanno fatto il resto. Chi viaggiasse a Buenos Aires si renderebbe conto che persino gli argentini preferiscono il dollaro al peso, ad esempio per gli acquisti o per gli affitti. Valuta molto più stabile del biglietto argentino. I debiti argentini sono in dollari e in divise straniere per questo, con una valuta in caduta libera, molti esperti si dicono pessimisti circa questa nuova emissione, malgrado i roboanti e i annunci della Lagarde. Perché anche questo debito andrà pagato e l'economia argentina in questo momento non sembra in grado di poterlo fare.